Gli ultimi mesi sono stati duri, per tutti lo sono stati e quindi tutti abbiamo avuto le nostre esperienze di isolamento. La mia personale è stata di malattia ed è stato un lungo mese e mezzo, ma adesso ci sono ancora dentro, però diciamo la parte brutta è stata circa un mese e mezzo di riconquista del respiro. Quindi è stato come, in realtà non riuscivo a muovermi, non riuscivo a parlare e potevo solo pensare a respirare per un po' di tempo e questo penso che in realtà sia stato, perché è andato tutto bene, perché ho avuto la fortuna che sia andato tutto bene, penso che sia stato un po' un regalo di mettersi ad ascoltare, mi ha costretto ad ascoltare molto il mio respiro, il mio tempo e quindi questo. Io ero un po' spaventata, in modo molto pratico, ero un po' spaventata di non avere fiato, perché sono stata male e quindi ero un pochino in ansia di ricominciare a fare il mio lavoro, che implica una capacità vocale ed è ovviamente di un certo tipo e invece è stato bellissimo, è stato emozionante rincontrare le persone e niente, mi ricorda il senso di quello che faccio, che appunto è creare relazioni e incontrare persone. Non bene come tutti, in particolare vedere e sentire la malattia dai telegiornali e vederla in primo piano in un reparto Covid e su se stessi fa sentire una bella differenza. Diciamo che come tutte le avventure che hanno un buon fine, alla fine arricchiscono, arricchiscono l'esperienza, un'esperienza di cui ovviamente avrei fatto a meno, ma che a questo punto, potendola raccontare, mi ha dato, spero, credo, qualche cosa. Un attore differente? Penso di no, perché è arrivata tardi, nel senso che io ho 40 anni che faccio questo mestiere, per cui no, da queste prime repliche non mi sembra che sia cambiato nulla. Dal punto di vista umano sì, non ho ancora ben capito cosa, mi sento cambiato. Probabilmente la cosa anche forse più banale è che in questo primo periodo, diciamo, della guarigione, tendo a dare un pochettino più peso alle cose importanti. e che avete sentito una mancanza e che avete fatto delle prove di futuro. E se è così abbiamo un sacco di cose in comune, perché stasera è la sera in cui noi proviamo a dare forma ai pensieri di prima, senza fare troppo rumore, senza abiti troppo appariscenti. Io, e se voi non ridete, io muoio, sono io, sono io, sono io quello che è davanti a voi. Tre finestre come un mendicante. Sogno ogni notte che mi guardate, ma non mi riconoscete. Da quando sono venuta qui non ho fatto altro che aggirarmi attorno a questo lago, come un gabbiano. Io sono un gabbiano, no, sono un'attrice. Noi non abitavamo lì, non era casa nostra, e lo sai benissimo. Come no, come no? Per la verità, occupata. Occupata, occupata è la parola. Ma purtroppo c'è stata la ristrutturazione. Oh, questa sì che è una bella parola, ristrutturazione. Ristrutturare, ricominciare, ritornare lentamente alla vita. Girandola lentamente ti restituisce il senso della vita. Tu parlavi di vuoto. Ecco, la chiave che lo può riempire, questo vuoto, rendendoti il senso vero delle cose. Grazie. 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 Grazie.